E allora la settima è il premio Skygirl, è un confronto sul medio per anziani di categoria E, sono in sette al Via Non Corrorom, Guasimo, Vulcan Black, Paola ZN, Urb Spar, Vicky Laxmi, Sterling, Ubiboco e Sam, in seconda fila show di Casei, la rottura di Paola ZN prima dello stacco. Nel lancio è molto veloce Sterling, Sterling prende l'iniziativa davanti a Urb Spar, Vicky Laxmi all'esterno, più indietro Vulcan Black, sfilato da show di Casei, allargo anche Ubiboco e Sam, in bocco della prima curva, Sterling al comando su Urb Spar, Vicky Laxmi allargo con prudenza. Vicky Laxmi va su Sterling, i primi 200 metri in 14 e 3, Sterling al comando, Vicky Laxmi che attacca, accenna quasi a tenere Vicky Laxmi, poi Sterling, poi Vicky Laxmi insiste alla fine, sfila al comando. 29 e 1 per i primi 400 metri, Vicky al comando su Sterling, Urb Spar, i 600 vanno via in 43 e mezzo, i cavalli vanno ora ad imboccare la penultima curva con Vicky in vantaggio. Di rincalzo Sterling, poi Urb Spar, allargo risale Ubiboco SM, gli 800 in 59 e un baffo per Vicky Laxmi che è leader all'imbocco della retta opposta delle tribune, sempre seguito da Sterling che all'esterno Ubiboco SM va via di lena. Ora Vicky Laxmi, il primo chilometro di Vicky Laxmi sul piede dell'1, 13 e mezzo nella sua scia, Sterling allargo Ubiboco SM, poi Urb Spar in bocco della curva conclusiva, Vicky in vantaggio, Sterling di rincalzo, Ubiboco all'esterno. Siamo al termine della piegata conclusiva con Vicky in vantaggio su Sterling, Ubiboco che sbaglia improvvisamente e allora Vicky al comando, Sterling che si scopre su Vicky Laxmi, arriva anche Urb Spar, Vicky al comando su Sterling e Urb Spar. Vicky Laxmi si difende, finisce bene, Urb Spar, le battute conclusive e sul palo Vicky su Urb Spar, poi Sterling al terzo posto, 1,57,4, la media intorno all'1,13 e un baffo. Il successo per Vicky Laxmi che dopo una sgambatura poco bella, Alessandro ha riportato in scuderia, lo ha cambiato tutto come ci ha detto Emanuele Cardona e ancora una volta ha indovinato Alessandro perché il cavallo ha trottato e come si è trottato. 13 e spiccio e la media, vanno i complimenti veramente a Alessandro Gocciadoro che ha saputo migliorare tantissimo, un cavallo che ripeto, una sgambatura veramente non aveva convinto, il training ovviamente di Alessandro. I colori sono della scuderia Stefano Bondi, la quota 2,13 e il tempo al chilometro intorno all'1,13 e frazioni. Grazie.